Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto al titolo anche questa settimana come ogni giovedì video settimanale sugli sconti quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se siete nuovi ed attivate la campanella delle notifiche per i migliori contenuti su GTA in arrivo prossimamente ragazzi una live ogni mattina da giugno quindi mi raccomando poi vi aggiornerò meglio come vedete veicolo del podio la ISSI bello schifo comunque soldi ad rp doppi sulle missioni di Lamar quindi sulle missioni lowrider e sulle missioni omicidio soldi tripli invece su tutte quante le gare della ISSI classic comunque dopo ve lo farò vedere meglio fatemi sapere se volete un altro video in cui vi faccio vedere i veicoli che sono in sconto li modifico e insomma vi faccio vedere quelli che vi consiglio quindi come vedete in sconto abbiamo la Progen PR4 non è male come veicolo è semplicemente uno dei due veicoli da Formula 1 secondo me il migliore comunque tra le due ovviamente compratela se è in sconto se vi serve in seguito abbiamo la Visser Neo un veicolo che personalmente non ho mai utilizzato l'avevo comprato in live se non erro un anno fa quando uscì con l'aggiornamento del casino comunque anche questo qui è in sconto in seguito come vedete c'è anche la Declasse Mamba in sconto quasi quasi me la compro 597 mila non è affatto male si potrebbe anche spendere per quest'auto qui come vedete abbiamo la Deluxe in sconto se non l'avete comprata è il momento di comprarla a 2 milioni non è per nulla male io personalmente la comprerei abbiamo il Brickade in sconto veicolo inutile non penso che lo comprerà qualcuno ma sono dettagli dopodiché abbiamo la ISSI Sport in sconto anche questa qui ha un prezzo veramente basso non è male come veicolo e di conseguenza anche la ISSI Classic in sconto quindi se volete fare qualche duplicazione sul secondo canale trovate i metodi su questo canale solo roba legit in seguito abbiamo la True Fade Nero di Bennis in sconto non è male come veicolo ve l'avevo anche consigliato in una mia top 5 poi come vedete soldi tripli come vi dicevo sulle gare ISSI Classic e soldi doppi su invece sulle missioni omicidio e sulle missioni di Lamar quelle lì dei lowrider poi ragazzi l'obiettivo giornaliero da un milione è ancora attivo quindi mi raccomando se non avete ancora completato i 10 obiettivi quindi 10 incarichi giornalieri vi lascio un video in descrizione dove spiego tutto quanto per filo e per segno su come ottenere tutti quanti i soldi che regala Rockstar tra cui questo milione bonus quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto andatelo a fare mi raccomando quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se siete nuovi iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video